Questo è un cantiere ferroviario e l'avanzamento di un cantiere importantissimo che ci permetterà di dismettere il tracciato ferroviario di via Imperatore Traiano e di avere la circolazione dei treni su un nuovo tracciato che devierà rispetto a quella attuale in corrispondenza del passaggio livello di via Emanuele Mola andrà in affiancamento con gli attuali binari delle ferrovie sud-est fino al complesso executive in corrispondenza delle executive ci sarà una diramazione la sud-est continuerà il proprio itinerario attuale e invece i due binari di RFI diretti per Lecce passeranno sotto quei varchi che sono stati creati sotto la statale 16 costeggeranno il futuro tracciato della variante della statale 16 e si rimetteranno sull'attuale linea ferrata poco prima della stazione di Torriammare la modifica a cui facevi riferimento importante che la città si appresterà a vivere nei prossimi anni è sostanzialmente il fatto che quartieri come Madonnella e Iapigia che si sono guardati fra di loro ma che hanno avuto pochi contatti diretti proprio ad opera a causa della presenza dei binari della ferrovia avranno modo di interagire in maniera continuativa per dirne una avremo possibilità di poter addirittura rimuovere e demolire il ponte Garibaldi quello di fronte al Marconi che non avrà più ragione di esistere perché non dovrà più scavalcare dei binari ferroviari così come non avrà più ragione di esistere anche la passarella di Imperatore Traiano quella che abbiamo inaugurato alcuni anni fa e che ancora farà il suo servizio per i prossimi anni la data ipotizzata dalle ferrovie per l'ultima azione di questi lavori oscilla intorno al 2027 ovviamente in quella data noi avremo l'ultimo treno che passerà dagli attuali binari della ferrovia per poi avere nella mattina successiva il primo treno che passerà dalla nuova linea ferroviaria da lì poi comincerà una partita molto entusiasmante per la città perché sarà quella di ripensare, ridisegnare questo ex sedime ferroviario che ovviamente nell'immaginario collettivo non sarà una linea di edifici ma sarà uno spazio per il pubblico su cui immaginiamo di connessione tra i quartieri di connessione tra i quartieri su cui immaginiamo piantumazione di alberi, pista ciclabile una greenway sostanzialmente dove verosimilmente passerà anche il BRT quegli autobus super veloci finanziati con il PNRR che permetteranno anche di rivoluzionare il trasporto pubblico in città grazie a tutti